ciao eccoci igor e moreno lo spettacolo e room for all our tomorrow's fra poche ore tomorrow's fra poche ore a arezzo teatro mecenate nell'ambito della rassegna di danza contemporanea invito di sosta a cura di sosta palmizzi ragazzi mi hanno detto che arrivate da parecchio lontano arriviamo da lontano infatti per me mezzanotte dove eravate a fare spettacolo a macau a macau dall'altra parte del mondo si sente però anche gli occhiai non si vedono c'è un sacco di sole all'arezzo però non era questo lavoro era un altro lavoro era un altro lavoro e ieri è stato molto bello che questa è fatta una master class perché appunto sosta palmizzi organizza anche delle master class con gli artisti che in vita dove c'erano quasi 30 persone prese benissimo bellissimo sono stato benissimo e poi bello perché comunque voi avete lavorato su alcuni movimenti dello spettacolo cioè era molto collegato si è un po l'idea anche condividere le strutture le idee di lavoro non tanto per dare una spiegazione del lavoro però per avere un un'esperienza diciamo del lavoro anche perché quasi tutti poi verranno a vedere lo spettacolo un po e poi c'è anche l'incontro io sto facendo dei post poi li metto su fatti di teatro parliamo 30 secondi dello spettacolo un tavolo non diciamo troppo però un tavolo si parte da questo tavolo diciamo da una scena quotidiana diciamo e si tirano fuori da questa scena quotidiana un po le assurdità le assurdità le armonie e disaccordi di una di un momento di un momento qualunque di momento in cui si prende un caffè si dicono tante cose ma non si dice niente è un po eliminiamo le parole e lasciamo la voce il corpo parlare bene con senso l'umorismo con tragedia l'ho già visto è molto bello e sono contento di vederlo perché poi insomma le spettacolo vanno visti più volte anche ragazzi la chiuderei qui metto il link vostro qui sotto l'appuntamento se qualcuno ci vuole raggiungere teatro mecenata ad arezzo ciao 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 ciao